Mi ricordate la canzone Quattro amici al bar di Gino Paoli? Bene, sì, questa canzone bellissima del 1991 parlava di quattro amici che si riunivano al bar perché volevano cambiare il mondo tra un bicchiere di coca e un caffè, tiravano fuori il loro perché. Invece ieri sera abbiamo visto al GF VIP sempre quattro amici però non al bar ma in un van che tiravano fuori le più svariate schifezze talmente brutte e volgari che Alfonso Signorini non ha potuto far sentire neanche la registrazione, la clip. Ma noi abbiamo immaginato tutti quanti al volo tutto quello che era successo. Certamente i quattro ragazzi non stavano lì per cambiare il mondo ma per dire in questo caso le loro porcherie su altri concorrenti della casa. Pensavano di non essere scoperti, infatti hanno staccato il microfono e giù a sparlare di Daniele Dalmoro e di Oriana e di altri concorrenti. A voi l'immaginazione, i quattro amici del van sono la coppietta felice, Edoardo Tavassi, Micol in Corvaia, Edoardo Dona Maria e la Murgia. Le conseguenze sono che tutti sono al televoto per la prossima settimana. Ma a voi sembra una grande punizione dopo che Signorini e l'ha definita la notte dei lunghi coltelli. A voi sembra una grande punizione dopo che Signorini e l'ha definita la notte dei lunghi coltelli.